signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e continuiamo a parlare degli elementi essenziali del metodo del dungeon questa settimana andando a introdurre l'ultimo degli elementi fondamentali ve lo avevo anticipato uno scorso video e l'avete visto al titolo questa settimana andremo a parlare delle onnipresenti porte prima di continuare però una comunicazione di servizio perché mi hanno già chiesto varie persone allora anche quest'anno io sarò ai lucca comics a presentare scrivi la tua avventura il libro che abbiamo scritto insieme a mauro longo solo che al momento in cui sto registrando posso solo dirvi che girerò tra vari stand ma non so dirvi in quel giorno sarò in quale posizione quindi si sarò a lucca e si per chi vuole incontrarsi o per chi deve ancora ritirare la sua copia fisica sarò lì ma seguite i social trovate i link a telegram e a discord in descrizione al video li potrò essere molto più accurato e darò anche la mia posizione in tempo reale se c'è la necessità poi se siete interessati a avere uno spoiler sul libro perché tanti hanno chiesto anche questo mauro sta facendo una serie in cui va di capitolo in capitolo vi lascio il link qui sotto e anche qua in alto ai suoi video così potete andarli direttamente a vedere e togliervi la curiosità chiarito questo possiamo tornare a noi e come dicevo questa settimana andremo a parlare delle porte che non sono soltanto un oggetto che viene sfondato durante l'esplosione del dungeon ma sono un nodo logico fondamentale del metodo del dungeon e questa settimana andremo a vedere proprio perché sono così importanti ormai lo dico in ogni video ma per quelli che sono arrivati magari nuovi per la prima volta su questo il metodo del dungeon è una forma di stesura delle quest che prevede una astrazione di quello che è il classico dungeon il labirinto sotterraneo di endiesco per trasformarlo in una serie di elementi logici connessi tra i loro che servono a garantire il buon funzionamento di una sessione di gioco e di una quest scritta per il gioco di ruolo il metodo prevede proprio di trasformare la struttura classica del labirinto sotterraneo in una procedura algoritmica che vi permette di prendere le vostre idee per una quest o per un racconto e trasformarle in una narrazione che non solo sia coerente nel suo interno ma che contenga anche tutti quegli elementi che sono indispensabili per rendere interessante il gioco al tavolo durante le sessioni per i vostri giocatori di cosa consista nel dettaglio questo metodo ne abbiamo parlato del primo video di questa miniserie ve lo lascio linkato qui in alto andate a recuperare se no rischiate di non capire cosa diremo oggi però non starò a ripetermi sbrigata la parte burocratica torniamo a noi perché anche se le porte sembrano banali abbiamo davvero molte cose da dire in questo video come per tutti gli altri elementi del metodo del dungeon quando parliamo di porte intendiamo due cose distinte una cosa sono le porte che esistono fisicamente all'interno del dungeon un'altra è la funzione logica che l'elemento chiamato porta all'interno del metodo e che ovviamente qualcosa di molto più astratto e che ha molte più applicazioni questa volta cominciamo a trattare dalle porte fisiche all'interno del dungeon perché c'è molta più sovrapposizione di quello che ci si aspetta ora immagino in dover star qui a spiegarvi cos'è una porta è quella cosa che dovrebbe impedire alle persone di entrare in una stanza quando state girando un video ma non lo fa all'interno del vostro dungeon svolgono due funzioni fondamentali fornire un ostacolo che metta alla prova i giocatori e comportamentalizzare le informazioni in modo che vengano rivelate progressivamente facciamo un esempio per rendere le cose più facili il nostro gruppo di avventurieri sta procedendo lungo il corridoio del dungeon quando il loro percorso viene bloccato da una porta la prima cosa è evidente è che la porta non solo gli impedisce di proseguire ma blocca anche la loro visuale impedendogli di vedere cosa c'è al di là di essa lungo il loro percorso oltre la porta potrebbe trovarsi la stanza del tesoro che loro stanno cercando ma potrebbe anche esserci un mostro che vuole tendergli un agguato o potenzialmente entrambe le cose il fatto che la presenza nella porta neghia i giocatori le informazioni su che cosa si trova al di là della porta crea incertezza nella loro risposta quindi suspense e quindi è un elemento che aiuta i giocatori a immergersi nella situazione di gioco i loro personaggi non sanno cosa c'è al di là della porta neanche i giocatori sanno cosa c'è al di là della porta questo aumenta l'immedesimazione all'interno del personaggio i giocatori cominceranno a organizzarsi per cercare di scoprire cosa c'è dietro la porta o anche per avere delle tattiche per sapere cosa fare nel caso ci sia un mostro per decidere cosa fare se ci sia un tesoro se ci sia una trappola quindi anche nel caso che al di là della porta non ci sia niente semplicemente il corridoio prosegue solo il fatto che la porta è stata messa lì e l'incertezza che ha generato dal party è riuscito a creare una situazione di gioco che coinvolgesse i vari giocatori e li aiutasse non solo comunque nell'immedesimazione ma anche proprio creasse intrattenimento durante la sessione ovviamente però il modo migliore per sapere cosa c'è al di là della porta è aprirla e questo ci porta alla seconda funzione che ha una porta in gioco la porta rappresenta è infatti un ostacolo che dovrà essere superato utilizzando le abilità dei personaggi e la capacità dei giocatori di interagire col mondo di gioco fittizio all'interno di cui si svolge l'avventura nel caso più ovvio e comune la porta sarà chiusa a chiave e i personaggi dovranno quindi trovare un modo per aprirla potrebbero utilizzare le loro abilità per scassinare la porta come nel classico caso del ladro in d'angelons and dragon potrebbero decidere di sfondare la porta utilizzando le loro armi a loro forza fisica questo normalmente è l'approccio del barbaro di d'angelons and dragon potrebbero anche più semplicemente aver recuperato precedentemente la chiave che apre quella porta o se non l'hanno fatto decidere di tornare indietro e andare a cercare se c'è una chiave per aprirla oltre a dare ai giocatori la possibilità di essere gratificati dalla scelta delle loro abilità perché dovranno utilizzarle per interagire col mondo di gioco la porta crea anche un modo organico e coerente all'interno del mondo di gioco fittizio per separare il dungeon in varie aree distinte in cui non sarà possibile accedere immediatamente questo può aiutare a creare una progressione delle aree senza andare a infrangere la fiction di gioco ad esempio la porta che separa la prima area del dungeon dalla seconda potrebbe avere una difficoltà per essere scassinata o per essere sfondata calcolata in modo che sia impossibile farlo per un personaggio di primo livello ma che sia possibile farlo per uno di secondo in questo modo il master ha già separato il dungeon in due aree con un'area iniziale magari con incontri più semplici per personaggi di livelli più bassi sapendo che i giocatori non potranno incappare accidentalmente in un incontro al di sopra le loro possibilità perché tutti quegli incontri saranno al di là della porta che non possono aprire finché non sono saliti di livello ovviamente un gruppo di giocatori particolarmente preparato o semplicemente particolarmente scaltro potrebbe trovare un modo coerente con le regole con la storia di aprire lo stesso la porta anche prima di essere passata di livello ma in questo caso la porta continuerà a svolgere la sua funzione di separazione perché il suo scopo è appunto quello di bloccare l'accesso alle aree più difficili fin tanto che i personaggi non sono pronti ma se i loro giocatori dimostrano di poter sopperire alle mancanze dei personaggi con la propria abilità personale molto probabilmente se hanno trovato un modo astuto per aprire lo stesso la porta troveranno un modo astuto per superare lo stesso gli incontri quindi il check di abilità è stato comunque eseguito anche se in una maniera diversa da quella prevista inizialmente dopo tutto lo scopo non è quello di bloccare i personaggi ma di inserire un check che abbia senso all'interno del mondo di gioco senza che la divisione in aree risulti qualcosa di totalmente arbitriario fatto al master in cui i giocatori possono andare al primo piano ma non il secondo perché il master ha detto che al secondo non si può andare e basta la porta potrebbe essere lì anche per garantire che alcuni eventi all'interno della storia si svolgano nel modo previsto o comunque nel modo in cui è più facile per i giocatori assorbire determinate informazioni ed evitare che i giocatori vadano in confusione imparando informazioni non nell'ordine in cui dovrebbero essere assimilate la stanza del tesoro è chiusa da una porta magica che può essere aperta solo con le tre chiavi speciali che sono nascoste nelle tre aree del dungeon per quanto nulla impedisca ai giocatori di esplorare le aree del dungeon nell'ordine che loro ritengono migliore non potranno accedere all'ultima stanza e al tesoro fin tanto che non le hanno esplorate tutte e tre in questo modo il master ha inserito all'interno del mondo di gioco una motivazione verosimile all'interno del mondo stesso per fare in modo che i personaggi esplorano l'intera area che è il funzionamento previsto del dungeon a livello meccanico e già così abbiamo dimostrato che le porte fisiche evidentemente richiedono molto più ragionamento per essere inserite di quello che ci si aspetterebbe ma quando andiamo a parlare delle porte come elemento logico all'interno del metodo del dungeon le cose si complicano ulteriormente quando parliamo in maniera astratta di una porta all'interno del metodo del dungeon parliamo di un elemento che i giocatori debbano far superare i loro personaggi per proseguire all'interno della linea narrativa prevista per quella storia come abbiamo visto negli esempi fatti finora potrebbe trattarsi effettivamente di una porta o comunque un qualche tipo di elemento fisico che i personaggi debbano superare all'interno del mondo di gioco per proseguire nel loro percorso o per accedere a qualche tipo di nuova informazione potrebbe essere il crepaccio che si apre all'interno della grotta e che i giocatori dovranno trovare un modo per far saltare o superare in qualche modo i loro personaggi o essere la password che protegge il server su cui sono contenuti le informazioni degli illeciti bancari su cui gli investigatori stanno investigando per scoprire chi è l'assassino in linea generale però una porta logica è un qualsiasi elemento che i giocatori devono in qualche modo superare per poter accedere al percorso ottimale nel proseguimento della storia che sta venendo raccontata l'esempio più classico che si può fare è quello del racconto giallo ai personaggi viene presentato un qualche tipo di mistero e gli viene chiesto di risolverlo per poter risolvere il mistero i giocatori dovranno fare in modo che i loro personaggi raccolgano quanti più indizi possibili e poi analizzare questi indizi per capire chi è l'assassino o comunque quale sia la risposta alla domanda misteriosa in questo caso proprio il mistero è la porta logica di questo racconto intanto che i personaggi non avranno raccolto tutti gli indizi e i loro giocatori li avranno analizzati per capire chi è l'assassino non potranno accedere all'ultima scena della quest cioè quella in cui identificano l'assassino e lo vanno ad arrestare molto più semplicemente una porta potrebbe essere un qualche tipo di evento o situazione di gioco che i giocatori debbano necessariamente svolgere per poter accedere a una nuova parte del racconto per poter sconfiggere il signore del male i giocatori avranno bisogno della spada magica ma per trovare la spada magica hanno bisogno della mappa segreta che però ha solo il mago menefreghista e che non gliela darà a meno che loro non sconfiggano i topi che stanno nella sua cantina e non ditemi di non aver mai preparato una quest del genere perché tanto non ci credo ognuno di questi eventi sarà una porta logica perché finché non avranno sconfitto i topi non potranno avere la mappa finché non avranno la mappa non potranno avere la spada finché non potranno avere la spada non potranno affrontare il boss finale quindi ognuno di questi eventi è una porta logica che impedisce loro di arrivare alla scena successiva fino a quando non è stata in qualche modo risolta ovviamente che si tratti di una porta logica o di una porta fisica nessuna porta all'interno della vostra quest dovrebbe mai portare a un fallimento bloccante cioè qualcosa che impedisca che la storia vada avanti ne abbiamo parlato in un video qualche mese fa ve lo lascio linkato qua sopra perché è estremamente importante questo concetto per quanto riguarda invece le porte del metodo del dungeon terminiamo qui e con le porte abbiamo anche finito di parlare di quelli che sono i tre elementi essenziali per la costruzione del dungeon logico cioè stanze corridoi e porte la serie però non termina qui perché in realtà ci sono ancora un sacco di cose da dire e magari dovremmo fare anche degli esempi pratici però andrà in pausa per qualche tempo anche perché adesso stiamo andando verso quel periodo dell'anno dedicato agli speciali avremo il compleanno halloween e probabilmente lucca comics quindi ritorneremo sull'argomento tra qualche mese immagino nel frattempo comunque la parola come sempre sta a voi scrivetemi qui sotto come voi avete utilizzato le porte dei vostri dungeon magari fornite gli esempi anche per i neofiti e tornano sempre utili come sempre se avete domande dubbio perplessità scrivete anche lì vedrò di rispondervi e vabbè se vi state domandando che cos'è il libro di cui ho parlato all'inizio del video sì ho scritto un libro trovate il link per acquistarlo su amazon in descrizione così contribuite al canale altrimenti guardatevi vecchi video ne ho già parlato se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e scacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione come ho detto trovate i link al server di discord al gruppo telegram dove metto io gli annunci manualmente quando escono i video e dove si riunisce anche la community del master kai per il resto io sono il master kai e noi ci vediamo nel prossimo video